Un aiuto concreto destinato ai figli e alle famiglie dei lavoratori e dipendenti di aziende del nostro territorio in un periodo decisamente tartassato da una crisi economica, i tempi della quale vengono dettati da rincari sempre meno sostenibili. Per gli studenti, un premio. Sono state consegnate questa mattina a Sondrio le dieci borse di studio destinate a laureati e corsisti universitari messe a disposizione dagli enti bilaterali del commercio e del turismo. Il progetto è solo parte di un operato decisamente più ampio messo in atto dai due enti bilaterali durante il 2022 destinato nella sua omogeneità ai lavoratori ed aziende della provincia di Sondrio dai sussidi per la scuola materna ai libri di testo e ai materiali per le scuole elementari e medie fino ad una serie di contributi specifici per trasporto scolastico corsi per studenti diversamente abili e ancora contributi per corsi legati alle attività lavorative e alla sicurezza oltre ad ulteriori aiuti economici destinati all'acquisto di DPI i dispositivi di protezione individuale il tutto per un ammontare complessivo di 122 mila euro le borse di studio sono delle erogazioni che gli enti bilaterali fanno in favore di dipendenti d'aziende nel novero diciamo delle provvidenze ci sono anche le borse di studio per gli studenti che passano al secondo anno e i laureati terziario in provincia di Sondrio è ancora un settore che dà possibilità di crescita per i giovani valtellinesi e valtchiavennaschi le borse di studio messe a disposizione dall'ente bilaterale del commercio sono andate a Sara Martinelli, Chiara Bombardieri e Maddalena Dalpaos primo e secondo anno di studi universitari a Sofia Maranta, Alice Sciarmella, Giada Tempra, Luca Negri e Marta Lucchina quelle per il conseguimento della laurea a Giorgia Città è invece stata assegnata una borsa di studio messa a disposizione dall'ente bilaterale territoriale del turismo è un segnale di vicinanza della nostra istituzione ai ragazzi meritevoli ma soprattutto alle famiglie che soprattutto in questo periodo hanno dovuto sobalcarsi a degli enormi sacrifici per poter far studiare i ragazzi a Milano sappiamo benissimo che la lontananza da Milano soprattutto per una valle decentrata come la nostra è indice di impegno economico non indifferente per la famiglia quindi noi come ente bilaterale del turismo cerchiamo in questo modo con queste borsa di studio di stare vicino alle famiglie e dare il giusto premio ai ragazzi